Allora, questa mattina i relatori mi hanno facilitato la vita, nel senso che hanno già parlato dello spettro elettromagnetico e del perché effettivamente la radiazione ultravioletta, il visibile e l'infrarosso siano di interesse, siano di interesse per voi. Oggi invece cercherò di capire e di farvi capire se effettivamente dobbiamo dover adottare le tecniche degli inuit, cioè degli occhiali che risultano essere caratterizzati da delle fessure per limitare l'intensità della radiazione che giunge all'occhio, oppure se dobbiamo effettivamente utilizzare dei dispositivi di protezione individuale, ossia delle mascherine che vengono impiegate da quei lavoratori che sono soggetti proprio per la propria professione a dei danni fototossici. O se invece gli strumenti che utilizziamo, lenti oftalmiche e lenti a contatto, sono effettivamente in grado in qualche modo di difenderci. Di fatto nel momento in cui noi consideriamo un materiale che viene interposto alla superficie oculare abbiamo tre fenomeni, il fenomeno di assorbimento, il fenomeno di riflettanza e il fenomeno di trasmittanza, cioè abbiamo fondamentalmente che una parte della luce viene riflessa dalla superficie del materiale, una parte viene assorbita in funzione della lunghezza d'onda e una parte, la maggiore nel caso delle lenti oftalmiche e ridotta nel caso dei filtri sorali, viene trasmessa. Samattina una domanda è stata relativamente a che cosa succedeva se si poteva utilizzare la riflessione, la riflettanza per risolvere il problema, cioè di fatto per eliminare quello che può essere il danno fototossico. In realtà il problema non è risolto dalla riflettanza e l'utilizzo quindi dei filtri antiriflessi è assolutamente consigliato per due motivi. Il primo perché di fatto se noi omettiamo la riflettanza del materiale e quindi di fatto la riflettanza della superficie anteriore abbiamo risolto il nostro problema ma di fatto lo ribaltiamo su chi ci sta di fronte e di conseguenza questo non può essere sempre eseguito se non nei confronti di persone spiacevoli ma in realtà è perché il materiale nella superficie posteriore rappresenterà le stesse caratteristiche per cui di fatto la mancanza di un sistema antiriflesso porterà a riflesso della luce verso la cornea e gli stessi riflessi corneali possono essere molto dannosi perché poi rimbalzano su tutte le superfici delle lenti stesse. Il che spiega anche il motivo per cui nei dispositivi di protezione individuale normalmente le mascherine sono effettivamente a contatto della superficie del viso proprio per impedire a questo fenomeno. Trasmittanza, riflettanza e assorbimento si assommano all'unità, normalmente si indicano con la percentuale e quindi di fatto mi concentrerò su quella che è il rapporto fra l'intensità trasmesse e l'intensità incidente che rappresenta la trasmittanza spettrale. Ora in laboratorio noi abbiamo una strumentazione che ci consente di fare delle indagini approfondite in quanto possiamo utilizzare una lampada aldeuterio, una lampada alogena in modo da poter indagare molto bene la parte relativa allo spettro ultravioletto e la parte poi relativa anche allo spettro infrarosso vicino. Quindi la pratica è quella di illuminare di fatto l'occhiale, il filtro solare e valutata l'intensità incidente verificare per mezzo di uno spettrometro qual è l'intensità trasmesse dal rapporto ottenere questa trasmittanza. La sensibilità che noi abbiamo varia a seconda della lunghezza d'onda. L'intervallo di lunghezza d'onde viene qui riportato ed in particolar modo vuol dire che io sono in grado di realizzare una misura di trasmittanza ogni 0,3 nanometro, cioè di fatto ho una misura molto fine. Vedremo se è così nella strumentazione diciamo che viene utilizzata nella pratica degli ottici e degli optometristi. Di fatto però se io ho questa possibilità alla fine può essere anche confondente, cioè come faccio a dire effettivamente quanta è la trasmittanza del visibile o qual è la trasmittanza dell'ultravioletto se ho dei valori differenti a seconda delle diverse lunghezze d'onda. Quindi in qualche modo devo cercare di mediare o integrare i risultati ed è di fatto quello che viene fatto per mezzo di queste formule che ovviamente vi spaventeranno ma nelle quali, dato che gli studenti miei presenti hanno già sostenuto l'esame per cui non li devo neanche interrogare, identifichiamo degli elementi importanti, cioè da una parte la trasmittanza spettrale che è esattamente la misura che ottengo in laboratorio, ma dall'altra il fattore di sensibilità fotopica, cioè di fatto la curva che rappresenta la risposta oculare che è differenziata a seconda della lunghezza d'onde e anche delle condizioni di illuminamento che in questo caso vengono intese come medie diurne. Per questo la commissione internazionale di eclaraggio e di illuminamento ci fornisce degli strumenti matematici che ci consentono di rappresentare il sole e quindi di fatto quello che risulta essere la sorgente luminosa in modo da poter inserire all'interno di queste formule effettivamente la nostra sorgente naturale. L'ultima curva sulla quale focalizzo la vostra attenzione è che nel momento in cui vogliamo andare a studiare effettivamente gli effetti della cosiddetta luce blu il fattore di sensibilità viene riscalato, cioè relativizziamo esclusivamente alla regione della luce blu quella che è la risposta dell'occhio umano e quindi di fatto andiamo a vedere in quella zona specifica dello spettro qual è effettivamente questo rischio. Ma noi ormai abbiamo visto che effettivamente non utilizziamo esclusivamente il sole come sorgente luminosa ma le sorgenti artificiali ed in particolar modo storicamente si utilizzava la risposta spettrale della lampadina incandescenza che però per nostra fortuna è andata in pensione in quanto è tossica per altri motivi. Di conseguenza abbiamo delle risposte spettrali di lampadine che abbiamo già visto ampiamente questa mattina e ci tengo a sottolineare il fatto che anche qui viene espressa un'energia relativa ma, e cito lo stesso articolo citato dalla dottoressa Boccardo questa mattina, se andiamo praticamente a guardare quella che effettivamente risulta la potenza espressa per unità di superficie, la differenza fra una lampadina incandescenza e una lampadina a led non diventa più così rilevante. Ed in particolar modo faccio osservare che qui si tratta di millivatt, cioè di quantità di potenza che risultano essere trascurabili o comunque non così dannose nell'immediato. Quindi qui stiamo valutando quello che effettivamente è il rischio nell'immediato e non per una dose prolungata. Analogamente se pesiamo con la curva di risposta della luce blu troviamo che la differenza fra la lampadina incandescente e il led non è più così sostanziale. Il che ci pone la domanda se dobbiamo adottare delle limitazioni per quanto riguarda la trasmittanza della luce blu e la trasmittanza dell'infrarosso che viene normalmente dimenticato nel caso appunto normale, cioè della nostra vita quotidiana, perché in realtà per i lavoratori, quindi i saldatori, ma anche semplicemente i lavoratori che sono esposti alla luce solare per molte ore, pensiamo ai vigili urbani quando sono in servizio, vi sono delle limitazioni, cioè si chiede che la trasmittanza della luce blu sia inferiore alla trasmittanza luminosa e anche quella dell'infrarosso sia inferiore alla trasmittanza luminosa. La trasmittanza luminosa, cioè di fatto quanto deve nel visibile percepire il lavoratore, è limitato fra l'8 e il 40%. Nella pratica dell'ottico di fatto noi abbiamo a disposizione dei fronti focometri che vengono impiegati con modalità UV o blu light. Sulla base delle ricerche che ho effettuato sui data sheet tecnici ho verificato che di fatto questi fronti focometri consentono di verificare la trasmittanza della luce UVA, cioè di fatto soltanto di una parte dello spettro dell'ultravioletto e per quanto riguarda la luce blu pur esistendo in commercio non ho ritrovato quindi una mia mancanza, quella che effettivamente è la lunghezza d'onda con la quale illuminano le lenti. Tuttavia come potete notare il numero di lunghezze d'onde che vengono utilizzate nei modelli diciamo più avanzati risulta essere comunque limitato, il che significa essenzialmente che noi abbiamo un minor numero di informazioni rispetto alla resistenza da parte dei materiali. In maniera analoga possiamo utilizzare anche dei tester UV, in realtà questi nella forma diciamo più blanda esistono anche in commercio assolutamente a pochi euro, ne uno in borsetta che ho comprato in un museo di scienze e quindi immediatamente possiamo effettivamente verificare se un materiale risulta essere o meno sensibile alla luce ultravioletta A, oppure dei tester che realizzano di nuovo una diciamo un'analisi spettroscopica un po' più raffinata con passi di 10 nanometri da 475 a 660. Quindi le curve che noi andiamo a raccogliere risultano essere delle curve di trasmittanza in funzione della lunghezza d'onda. I risultati che sto qui a mostrare sono relativi a materiali che sono comunemente utilizzati nella pratica quindi che sono stati diciamo misurati durante il corso di tesi di lauree. In particolar modo per quanto riguarda le lenti oftalmiche noto dalla letteratura è assolutamente confermato dalle misure in laboratorio che i materiali possono differire, il CR39 taglia meno bene l'ultravioletto rispetto al policarbonato ma sicuramente molto rilevante è la presenza di un efficace ed efficiente sistema di antiriflesso. Quindi queste misure sono state condotte variando il potere, variando il trattamento e andando effettivamente a verificare qual era la trasmittanza risultante, nulla di diciamo diverso da quanto atteso. Per quanto riguarda i filtri solari la normativa è stata aggiornata nel 2013, voi tutti appunto sapete anche meglio di me quali sono le categorie dei filtri solari ed in particolar modo è stata variata per quanto riguarda la categoria 4 che però non può essere utilizzata per la guida il massimo della trasmittanza degli UVA. Gli altri numeri in questa tabella non sono sostanzialmente differenti rispetto alla normativa del 2008. Tuttavia sugli occhiali da sole venduti un po' dovunque, anche ieri a Bologna era piena di bancarelle, spesso è riportata la dicitura UV400 che si riferisce in realtà alla normativa americana del 2003 riportata nel 2010 per cui dobbiamo avere un taglio degli UVB all'1% e un taglio degli UVA pari al 50% della trasmittanza luminosa. nelle misure che noi abbiamo effettuato quindi ci siamo chiesti se effettivamente la categoria dichiarata dal produttore risultava essere verificata e abbiamo trovato che non lo è nel 10% dei casi, se l'UV400 dichiarato risultava essere verificato e abbiamo trovato che non lo è nel 3% dei casi e siamo anche andate ad indagare confrontando lenti di marca e lenti contraffatte dove ho messo il vergolettato fra le contraffatte perché di fatto non sono originali ma non sappiamo se sono state trafugate quindi in realtà sono marchi originali o se effettivamente sono dei marchi simulati. Non abbiamo la possibilità di chiedere diciamo al venditore di occhiali contraffatti un datasheet relativo all'occhiale stesso. Una delle preoccupazioni spesso è quella se il filtraggio degli ultravioletti risulta essere adeguato. In realtà abbiamo appunto verificato che lo è ma la trasmittanza nel visibile nell'infrarosso risulta essere differente per cui di fatto non posso trovare praticamente un filtraggio adeguato non uguale ma adeguato della radiazione ultravioletta ma posso trovare una risposta invece molto diversa per quanto riguarda il visibile. In arancione ho riportato praticamente quelle che sono le percentuali di lenti che non soddisfarebbero la condizione di trasmittanza del blu minore della trasmittanza luminosa e di trasmittanza dell'infrarosso minore della trasmittanza luminosa. Non perché questo sia una richiesta non vi sono richieste relativamente alla trasmittanza nelle norme vi sono relativamente alla irradianza e alla radianza delle sorgenti luminose ma non per i portatori fino a questo momento e queste condizioni risultano essere appunto non soddisfatte cioè vuol dire la trasmittanza della luce blu è maggiore di quella nel visibile nel 30 per cento dei casi condizione che risulta essere ancora peggiore per quanto riguarda la trasmittanza dell'infrarosso con il che voi potrete dirmi sì ma di fatto la radiazione infrarossa che giunge dallo spettro solare non è così rilevante ma la preoccupazione per esempio per l'illuminazione con le lampadine incandescenti doveva esserci così come dovrebbe esserci relativamente ai neon cioè di fatto se sto considerando effetti che arrivano dall'uso prolungato anche la trasmittanza nell'infrarosso risulta essere rilevante e in figura sono presentate due misure relativamente al confronto di filtri dichiarati di categoria 3 come vedete per esempio nella curva in blu risulta essere la trasmittanza decisamente inferiore rispetto ai limiti previsti quindi 8 18 per cento si sono spostate le righe arancioni cioè vuol dire che in questo caso di fatto un filtro che era adeguato per poter essere utilizzato durante la guida non risulta essere invece nella realtà così cioè di tipo in realtà è di tipo 4 nel confronto originale non originale possiamo vedere che il filtraggio della radiazione ultravioletta è analogo ma ad esempio viene tagliato una parte della radiazione visibile come vediamo schizza su cioè aumenta fortemente la trasmittanza dell'infrarosso per una delle lenti queste lenti si rifanno allo stesso modello del produttore originale cioè di fatto sto facendo il confronto fra tre teorici diciamo occhioli filtri solari dello stesso tipo filtri solari dello stesso tipo ora normalmente noi indichiamo praticamente che abbiamo una diciamo trasmittanza che possiamo avere dei filtri solari come filtri solari polarizzatori è vero se associato al polarizzatore che blocca una appunto delle direzioni una determinata direzione della polarizzazione della luce è vero ma non è vero se abbiamo per esempio i polarizzatori che non sono intesi come filtri solari ma semplicemente per la visione in tre dimensioni in questo caso se noi pur vedendo delle lenti scure pur vedendo delle lenti che vengono dichiarate come polarizzatori andiamo a osservare la trasmittanza troviamo che di fatto sono classificabili soltanto come filtri di categoria 1 e categoria 2 il che significa essenzialmente che non possono essere impiegati come filtri solari opportuni in determinate diciamo condizioni quindi dire polarizzatore non vuol dire necessariamente filtro solare e anche in questo caso troviamo che il rispetto diciamo della condizione di luce blu risulta essere limitato un 75 per cento ribadisco che non è una richiesta per quanto riguarda le lenti a contatto siamo andati a indagare 86 lenti a contatto prive di uv blocker e 76 con degli agenti che risultano a bloccare la radiazione ultravioletta sferiche e toriche essenzialmente disposable in rosso sono indicati i materiali per i quali era previsto la presenza dell'uv blocker e abbiamo trovato essenzialmente che la normativa innanzitutto è la normativa americana che classifica in classe 1 e in classe 2 che nel 23 per cento dei casi le lenti sono assimilabili a classe 1 70 per cento dei casi classe 2 ma c'è un 7 per cento di lenti dichiarate con uv blocker che in realtà non risulta essere classificabile cioè vuol dire fondamentalmente che il di fatto la presenza dell'uv blocker non è sufficiente per poter rispettare i limiti di questa normativa è interessante verificare che il porto modifica le proprietà di trasmettanza cioè nel caso praticamente delle lenti senza uv blocker innanzitutto osserviamo che la scala parte da 240 nanometri fino a 780 e di fatto viene fatto passare l'uvc, l'uvb, l'uva, tutto quello che potete immaginare si ha un degrado della trasmittanza ma non ha sufficienza per poter tagliare almeno la radiazione ultravioletta mentre nelle lenti con diciamo il uv blocker abbiamo la presenza di un picco in uvc e di fatto quindi questo significa che se non abbiamo un filtro aggiuntivo questa componente riuscirà ad arrivare sulla superficie dell'occhio e abbiamo anche una diminuzione sostanziale della trasmittanza all'aumentare del porto nello specifico queste lenti erano delle lenti quindicinali quindi sono state portate in realtà per 18 giorni al diciottesimo giorno osserviamo una netta diminuzione della trasmittanza quindi fondamentalmente quel degrado e quella contaminazione che sono diciamo state illustrate nelle relazioni precedenti con maestria si traducono anche in una ridotta trasmittanza l'ultimo argomento che vado a trattare è quello dei filtri UV cioè di fatto la presenza in commercio di pellicole che possono essere utilizzate sovrapposte ai dispositivi digitali di più largo uso e di fatto siamo andati a studiare le proprietà di trasmittanza di quattro pellicole anti imbrattamento di tre pellicole dichiarate anti uv di dieci pellicole dichiarate anti uv e anti blue light cioè con blue control e di due lenti oftalmiche con il blue control e il risultato è che di fatto le pellicole che venivano dichiarate anti imbrattamento ma che effettivamente dal punto di vista commerciale non si dichiarava null'altro non sono in grado né di tagliare la radiazione ultravioletta né di tagliare la radiazione blu vi devo dire neanche di tagliare le ditate nel senso che di fatto appaiono per quanto riguarda le pellicole dichiarate 3 anti uv in realtà soltanto 2 su 3 riescono a tagliare la radiazione ultravioletta e la riduzione della luce blu risulta essere modesta dell'ordine del 2% io però ho un errore sulle misure che è almeno dell'ordine dello 0,5 quindi di fatto non è così rilevante infine per quanto riguarda le pellicole dichiarate anti uv e blue light 9 su 10 tagliano la radiazione ultravioletta per quanto riguarda la riduzione della luce blu è del 12% da un minimo del 6% nelle pellicole vetrose a un massimo del 16% in quelle che sono invece di materiali polimerici il taglio della luce blu delle lenti oftalmiche è effettivamente dell'ordine del 16% e quindi può essere effettivamente testato e misurato per quanto riguarda invece le applicazioni nuovamente citate questa mattina dichiarate blue control nella nostra piccolissima esperienza e quindi del tutto insignificante dal punto di vista statistico 4 su 4 però riducevano l'intensità di tutto lo spettro e non solo del blu quindi di fatto l'azione era del tutto analoga a quella di ridurre l'intensità del dispositivo e 3 su 4 quindi con l'aggravio che 3 su 4 modificavano la colorazione quindi di fatto da questo punto di vista è vero erano gratuite quindi di conseguenza non sono in grado di verificare quelle che vengono vendute ma al momento è probabile che la modalità cosiddetta notturna cioè di inversione della colorazione dello schermo sia assolutamente più efficiente da questo punto di vista vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio volevo ringraziare chi mi ha invitato quindi sicuramente il direttore Giorgio Righetti e il presidente Mauro Frisani e tutto il consiglio direttivo della Sopti i lavori che ho presentato sono stati oggetto delle tesi di lauree dei dottori qui elencati voglio però dirvi che nessuno di loro è stato maltrattato in fase di tesi di laurea e tutte le volte che sono state commesse delle azioni assolutamente non valide tipo il porto prolungato oltre la data di scadenza è stato effettuato da me di conseguenza diciamo da questo punto di vista dichiaro non solo nessun interesse ma neanche diciamo un maltrattamento grazie 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 grazie